Toto Vitale c'è un appuntamento importante, una o due giorni, che interessa Gela con il BP Day in ricordo di Baden-Powell. Oggi e domani numerosi scout si incontreranno, una esperienza possiamo già definirla formativa. Finalmente siamo riusciti ad organizzare una giornata del pensiero per ricordare Baden-Powell e anche sua moglie perché sono andati tutti e due il 22 febbraio, a distanza di 37 anni però. Praticamente tutte le associazioni di Gela, scout, abbiamo organizzato con inviti ad altri gruppi del circondario oltre e ci saranno in città circa 800 ragazzi che da questa sera sciameranno per la città per portare a termine delle imprese, delle interviste, delle conoscenze della nostra città. L'uomo di ritrovo è agli scout Fabio Rampulla. Sì, il centro scout Fabio Rampulla, che è il luogo più esteso che abbiamo a Gela, ospiterà questa manifestazione diciamo come base di partenza dei ragazzi che poi gireranno per tutta la città e avranno dei luoghi di incontro in diversi punti della città. Perché bisogna avvicinarsi allo scoutismo? Ma vede, lo scoutismo non è altro che un'esigenza della banda che i ragazzi formano spontaneamente se sono fuori. E noi gli diamo la possibilità di organizzarsi la banda in senso positivo e quindi i ragazzi, otto ragazzi formano una pattuglia, una banda, dove ognuno ha un gomito, dove ognuno deve portare a termine il suo incarico, il suo posto d'azione. E mentre si gioca con questo, i ragazzi imparano, imparano tutto quello che c'è da imparare per la vita. I ragazzi che frequentano gli scout a Gela hanno un futuro in città? Con la faccenda della mancanza del lavoro, dei trasferimenti eni e tutto quello che gira attorno, sono partiti già dieci capi scout della nostra sezione che non riescono più a lavorare a Gela, e quindi sono dovuti partire, e che hanno lasciato le unità un po' sconsolate. Perché se continuiamo così, si arriva al punto di dover chiudere, perché se non abbiamo gli adulti che conducono i ragazzi, si deve chiudere. Quindi facciamo anche un appello a questo, a chi è interessato a risolvere il problema.